Vascotto, anche se ovviamente non è una risposta a tutti, però c'è un primo segnale per dare una mano alle fasce più deboli provenienti dal Governo centrale. Sì, adesso c'è questa nuova iniziativa per il reddito di inclusione, però a un certo punto, come c'è stato aiutato l'Euro di Renzi e loro, adesso andiamo sempre a intervenire sotto elezioni. Mi sembra proprio delle marchette che vengono fatte. Sicuramente bisogna prendere quello che il Governo dà, non bisogna sicuramente sputtare sul piatto dove si mangia, però arrivare adesso sotto elezioni a fare queste proposte quando c'è gente che da tutto l'inverno sta soffrendo e non ci sono risposte, questa mi sembra proprio una presa in giro. Questo reddito di inclusione a chi è rivolto e cosa prevede? Fasce di reddito bassissime, sotto i 3.000 euro all'anno, quindi proprio un reddito da indigenti. Sicuramente è un primo aiuto, la risposta è valida, non è che la cosa non sia fatta bene, però arriva tardi e arriva che non è sufficiente per tutti. Secondo me il Governo deve sforzarsi ulteriormente e anche visto che ci sono tanti parlamentari che stanno spingendo per i tagli degli stipendi, per i tagli dei vitalizi, tutto quanto, che si facciano un esame di coscienza, ci sono cittadini che non hanno cosa arrivare a fine mese, quindi quando uno riesce ad avere un sano stipendio a fine mese e non è detto che se lo guadagni, a certo punto pensiamo alla gente che ha bisogno.